Sprint Production Agency annuncia il proprio ingresso nel network internazionale Hogarth Worldwide con il nome di Hogarth Worldwide Italy e la società sarà controllata da WPP Italia. Chiediamo subito al country manager WPP Massimo Costa qual è l'obiettivo di questa operazione, insomma perché sarà un pillar così fondamentale per il gruppo tutta quest'area di business legata alla produzione, alla post-produzione, video, immagini, audio, al digital e a molti altri servizi di questo mercato. La nostra strategia di Creative Transformation Company, la tecnologia e la qualità che ne deriva sono un punto focale e quindi poter accedere a livello internazionale a mercati nuovi per i clienti italiani ed essere un ospite importante per i clienti internazionali che arrivano in Italia diventava un must. Hogarth è da sempre, da quando è nata, una decina di anni fa, un punto di rifiuto di qualità e ci fa molto piacere che oggi Sprint diventi Hogarth perché vuol dire che in temi di agenzia di produzione creativa abbiamo raggiunto i livelli, internazionalmente parlando, di altissimo livello. È un'operazione strategica o è un'operazione di cost savings? Io credo che queste due cose possono andare all'interno. Primari, ciò che stiamo facendo è dare un servizio ai clienti che è fondamentale diverso da la forma che il lavoro è stato fatto nel passato. E' per quanto riguarda i clienti bisogna parlare con i loro consumatori, quali canali che bisogna parlare con i loro, come il contenitore è più internazionale. Perché i clienti bisogna produrare più contenitore, con più canali, bisogna avere un dialogo con i loro consumatori, non solo dare loro messaggi. In order per lavorare in questo mondo, bisogna guardare la produzione in un modo completamente diverso. E alcuni di questo vuole mettere efficienza e cost effettività in cui produriamo questa grande quantità di contenitore. Primari, ciò è importante rendere il contenitore di contenitore, di qualità, 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 di qualità. Quindi, è una conversazione strategica, ma una cosa che è implicita in questo è cost saving e efficienza. Potremmo descriveremi il ruolo di Hogarth in WPP? Hogarth è la produzione di WPP. Quindi, abbiamo portato a tutte le agenze di WPP e tutte le agenze di WPP qui in Italia tutte le nostre capacità globale. La produzione è un negozio che migliora a scala, perché poi puoi scegliere i migliori talenti, investire in innovazioni, puoi assicurare che sei capace di lavorare nelle nuove tecnologie. e quindi, facendo tutto questo, e facendo questo in WPP, che significa che tutto l'investimento in queste zone è targetato e direttato per la Hogarth, significa che possiamo mantenere i nostri clienti all'interno di quello che è possibile. La nuova sigla sarà guidata da Andrea Legora come CEO e da Fabio Beccaria come Managing Director e CFO, ovviamente sotto il coordinamento di Richard Glesson e Jeremy Thompson. Quale sarà il modello di business di questa nuova company di WPP? Come gestirà e si rapporterà sia ai clienti del gruppo che ai clienti propri? Allora, come oggi Richard ha spiegato, cambierà un po' la posizione, diventerà molto più centrale, ma lavoreremo costantemente con le agenzie e con i clienti diretti. Credo che questo sia per noi l'accelerazione, la costruzione di un processo che avevamo cominciato già dieci anni fa. La vedo come una cosa positiva in tutti i sensi. Aggiungere la piattaforma che ha Hogarth per i nostri clienti diventa veramente un plus, cosa che oggi non veniva sfruttata. Grazie anche ai tool tecnologici del network Hogarth. La vostra offerta a quali clienti del mercato vorrebbe attrarre all'interno del gruppo? Uno dei principali mercati su cui noi abbiamo molte esperienze è quello del luxury brand e del fashion, su cui lavoriamo da più da vent'anni e sono clienti diretti che di solito sono fuori dalle logiche del mondo dell'agenzia perché gestiscono la loro comunicazione direttamente. Noi abbiamo una grande esperienza in quello che è la localizzazione delle loro comunicazioni e secondo noi possiamo portare questa esperienza con i nuovi strumenti che stiamo guadagnando dall'ingresso del gruppo Hogarth a una scala ben più vasta potendo avere una credibilità su questo mercato Italia che ci permette di avere sinceramente accesso a qualche cosa che in questo momento ancora non era stato proposto. In questo modo possiamo pensare di attaccare questi clienti per prima, offrire nuovi servizi ma soprattutto nuove capabilities in termini di localizzazione che comunque rimane sempre importante a livello dei singoli paesi come può rimanere anche sicuramente in Italia che è uno dei mercati più importanti su cui noi siamo molto felici di poter creare e portare avanti il valore che abbiamo fatto fino adesso. Quale sarà il tuo ruolo in Hogarth con un'opera vista sul mercato italiano? Grazie. Il mio ruolo in Hogarth è come CEO e CFO e questo significa, in rispetto al mercato italiano, che integriamo le operazioni di Sprint now Hogarth Italy in una operazione veramente globale in Hogarth. rispetto al nostro successo come successo globale, successo con i nostri clienti globale e successo con i nostri agenti globale e il mio ruolo sarà di aiutare la gestione a capire il ruolo che possono giocare in questo processo e anche aiutare il resto del WPP Italy a capire come Hogarth può dare benefici a loro, aiutare ai loro clienti e aiutare a crescere a crescere. Dunque, produzione, media, creatività, il tutto abilitato dalla tecnologia, no? Queste piattaforme saranno dei driver di crescita del gruppo WPP. Qualcun altro nuovo in arrivo? Nel momento in cui WPP ha deciso una strategia per cui si diventa una Creative Transformation Company occorre mettere insieme i brand delle aziende, le country e i clienti con un filo, un unico conduttore che coda la piattaforma tecnologica. Quindi sicuramente sì, la tecnologia avrà sempre maggiore importanza ma nel contempo, come sto ripetendo da qualche giorno in questa parte, vogliamo mantenere la centralità dell'aspetto creativo. Quindi sono due pilastri su cui baseremo sicuramente la strategia della Creative Transformation Company che stiamo facendo.